Ciao ragazzi e bentornati sul canale siamo su Fortnite ragazzuoli oggi è 27 gennaio 2021 e andiamo a vedere subito rapidissimi le novità del negozio oggetti di oggi come sempre ovviamente vi ricordo ragazzuoli andate nel negozio oggetti e in basso trovate il pulsante supporta un creatore scrivete il codice LordCreamor scritto LordCreamor e tutti gli acquisti che farete supporteranno il canale è un codice Epic Games quindi funziona con tutti i giochi della Epic Games come Fortnite, Rocket League, Among Us eccetera 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 premete il pulsante accetta e shoppate felici ragazzuoli ma adesso torniamo all'inizio e vediamo le novità di questo shop che secondo me è abbastanza succoso oggi e infatti ragazzuoli iniziamo subito con gli oggetti in evidenza allora abbiamo una novità Orin ragazzuoli carinissimo cos'è la controparte maschile di quello che c'ho io? Orin è un costume raro dalla caccia alla sua gemella perduta è la gemella perduta e la skin che c'ho io bellissimo fa parte del set salvataggio Ypsilon Labs prima apparizione capitolo 2 stagione 5 molto carino mi piacciono queste skin cartonizzate e in più c'è anche il dorso decorativo che è il kit di salto Mecha Fusione mamma mia roba assurda un pizzico di Mecha Fusione fa miracoli pure lui fa parte del set salvataggio Ypsilon Labs capitolo 2 stagione 5 costa 1200 bbac è molto carino guarda che sguardo sveglio che c'ha questo tipo e poi abbiamo il suo strumento di raccolta la scelta nulla attenzione questo è ancora in sviluppo questo piccone vi esplode ragazzi lo dico è ancora in sviluppo lo dicono loro costa 800 bbac carinissimo anche lui e poi abbiamo un altro costume non comune Aura attenzione c'ha due stili ma sapete che è carino sto costume per essere un costume non comune da 800 bbac è molto carino mi piace un sacco bello bello veramente bello accaparra di il bottino in grande stile prima apparizione stagione 8 molto molto carina Aura andiamo avanti e abbiamo signori un dorso decorativo il sacco d'oro carinissimo oh ma io non avevo mai notato che la mia schincia avesse questa cosa qua bellissima prima apparizione capitolo 2 stagione 2 perfetto 200 bbac costa poco raga compratevelo e ancora abbiamo attenzione lo strumento di raccolta gli occhi di diamante che caruccio sto coso guarda come sbrilluccica felice se gli sguardi potessero raccogliere e beh saresti ricco ragazzo costa 500 bbac e ancora un altro costume non comune raga gilda è carinissimo cioè raga ma oggi lo shop è bellissimo guarda quanta roba che c'è 800 bbac costa poco e anche questo è molto carino sulla strada verso la ricchezza prima apparizione stagione 8 e giustamente agli stili selezionabili due stili mi piace molto anche questo e abbiamo ancora ragazzi un dorso decorativo la catena dorata che è sto coso se sta bene puntini di sospensione non si sa prima apparizione capitolo 2 stagione 2 è già in mio possesso ragazzoli attenzione non mi ricordo perché l'ho presa se me l'avete regalata scrivetemelo sempre nei commenti non ne ho idea però è già in mio possesso ci sta mi piace e continuiamo l'esplorazione dello shop di oggi ragazzoli perché abbiamo anche altra roba ancora attenzione abbiamo bash bello questo occhio occhio a bash ragazzi quando un buon lama prende una brutta piega eh io lo so lo so succede sempre raga quando lascia un lama da solo inizia a frequentare cattive compagnie e diventa questo eh lo so purtroppo è così fa parte del set gli avanzi prima apparizione stagione 10 e c'ha ben tre stili selezionabili è molto carina come skinny mi piace 1500 vbac e in più c'è anche il dorso decorativo lo scudo del lama corno anche lui con gli stili selezionabili molto bello un emblema possente mi piace ragazzoli 1500 vbac ma andiamo avanti perché abbiamo anche giustamente lo strumento di raccolta lo schianto del rasoio come fai ad avere il lama incazzoso senza il suo strumento di raccolta non puoi non puoi vedi è così oltre la fine dell'arcobaleno oppure lui giustamente fa parte del set gli avanzi prima apparizione stagione 10 e abbiamo due stili selezionabili costicchia che costa 1200 vbac però raga fa la sua porca figura secondo me e abbiamo un costume epico abstract quel che è fatto è fatto ragazzo sei molto carino decisamente bello questo costume costa 1500 vbac e abbiamo pure il dorso decorativo guardate che bello come è macchiato di vernice borza di etichette è bellissimo praticamente questo è uno di quelli che fai graffiti per strada sicuramente vai scorrere vai scorrere sangue rosso e bianco e viola che vuol dire forse fai scorrere vabbè non lo so fa parte del set aerosol prima apparizione stagione 4 molto carino e poi abbiamo il suo strumento di raccolta lo scorridore rinnegato sfreccia bellissimo 1200 vbac cioè c'è un piede di porco legato qua bello bello dai 1200 vbac molto caruccio e abbiamo le offerte di ogni giorno attenzione perché abbiamo un costume leggendario magnus leggendario signori magnus conquista la tempesta fa parte del set norreno no questi sono belli quelli del set norreno sono bellissimi ragamo molto molto belli guarda che carino praticamente un vichingo incazzoso fatto fatto molto bene e il suo dorso decorativo e niente sempre stisti mantellini picco ma fate un mantello grande porca zozza vabbè mantello resistente temprato dalla battaglia pure lui fa parte del set norreno prima apparizione stagione 5 costa però guarda come come si accartoccia benissimo costa 2000 vbac poi abbiamo un costume non comune luce notturna molto molto carino questo costa poco 800 vbac mai paura del buio fa parte del set luce al neon prima apparizione stagione 4 carinissimo e ovviamente la copertura lustro prismatico mostra il tuo stile è animata 500 vbac questa è una bellissima copertura e abbiamo un emote giornata nevosa che carino ma dai sto facendo un po pazzo di neve no che bello il migliore amico dell'inverno e ragazzo non sei molto bravo a fare il po pazzo di neve te lo volevo dire vabbè sarà per la prossima volta non ti preoccupa prima apparizione capitolo 2 stagione 1 e costa 500 vbac è molto carina fuga furiosa ragazzi questo ce l'ho guarda che si incazza mamma mia non mi ricordo chi me l'ha regalato come sempre vi ripeto quando spunta qualcosa che c'ho già e non ho comprato se me l'avete regalata scrivetemi nei commenti chi me l'ha regalata così vi ringrazio attenzione segnapunti considerati giudicato vabbè però ti do un 9 cioè voglio dire ci sta costa 200 vbac e abbiamo ancora rappresenta il tuo club ragazzi un sacco di gente con 23 stili selezionabili li rivediamo velocemente ognuno di questi c'ha praticamente tutti questi stili dove voi potete selezionare la squadra che più vi piace ok io non sono esperto di calcio però ho riconosciuto la roma e il milan qualcuno lo riconosco gli altri no ce ne sono 23 e abbiamo ronda del campo che è appunto questa tipa qua poi abbiamo placatore tichi costano tutti 1500 vbac tiratore specialista impenetrabile dominatrice del derby contropiede signore del centro campo sergente spazzata galattico cacciatore potente insomma ce ne stanno un bel po come potete vedere quindi se vi piacciono comprate e poi abbiamo anche l'emote di rappresenta il tuo club abbiamo il pugno aereo di pelè molto figo 200 vbac abbiamo il gioco di gambe questo è bellissimo raga 500 vbac ma è mobile quindi potete camminare per tutta quanta la partita con sto palloncino e fate tutte queste cose belle secondo me è carinissimo poi abbiamo i rimbalzi mamma mia guarda senza mani molto figo pure questo 500 vbac bello sono fatte bene le emote lo dico sempre e poi abbiamo cartellino rosso eccolo qua omicidio prima apparizione stagione 4 e costa solo 200 vbac poi c'è anche trombetta da 200 vbac molto carino e andiamo ragazzuoli ai pacchetti a tempo allora abbiamo il classico pacchetto diva diamantina lo sappiamo tutti costa 3,99 un sacco caruccio vi dà il costume diva diamantina super fashion il suo dorso decorativo il pacchetto splendida sto zainetto sbilluccicoso con due bombe lo strumento di raccolta la lama a 6 carati pure questa che sbilluccica e 600 vbac tutto questo a 3,99 molto caruccio e poi abbiamo quello che io preferisco il bando ride bene chi ride ultimo a 29,99 vi danno pure 1000 vbac e c'è un botto di roba ci sono tre costumi di joker quello normale giacca e cappello oppure quello solo con la giacca poi abbiamo poison ivy la versione arborea tutta verdeggiante la versione umana abbiamo remida che è una skin leggendaria con e senza casco molto carino e poi abbiamo un sacco di dorsi decorativi abbiamo il florilegio abbiamo il ghigno di morte che è pure animato fra tutte queste cosette qua ci abbiamo l'emblema di mida che è questo mantello sbucciacchiato qua e poi abbiamo ben quattro strumenti di raccolta l'incoronatore l'ascia d'edera il tiro mancino e la vendetta di joker e per finire abbiamo la scia pesca una carta molto caruccia 29,99 e in più vi cuccate pure 1000 vbac e come sempre finiamo questa recensione dello shop di oggi con la crew di fortnite ragazzuoli l'abbonamento mensile che ha 11,99 euro al mese vi permette di entrare nella crew di fortnite quindi avete il pass battaglia incluso sempre il pacchetto della crew mensile che questo mese vi dà il costume il dorso decorativo e il piccone di freccia verde in esclusiva 1000 vbac e inoltre se avete già fatto il pass battaglia vi rimborsano pure i 950 vbac del pass battaglia tutto tutto molto carino quindi ragazzuoli prima di salutarci io vi ricordo se volete supportare il canale andate in basso a destra c'è questo pulsantino bellissimo supporta un creatore ci cliccate sopra scrivete qua dentro il codice lord creamore scritto lord creamore premete il pulsante accetta e tutti gli acquisti che farete supporteranno il canale è un codice della epic games quindi funziona su tutti i giochi della epic games come anche rocket league among us e tanti altri ogni 14 giorni lo dovrete reinserire a mano perché la epic ve lo cancella quindi va riscritto e va riaccettato insomma se vi fa piacere supportarmi dovete shoppare shoppate con questo codice e io vi ringrazierò tantissimo quindi ragazzuoli detto ciò io spero che questo video dello shop di oggi vi sia piaciuto e vi torni utile se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like spolliciate condividete se il video che è il canale sui vostri social e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina in basso sotto ogni video trovate tutti i miei link per iscrivervi a youtube al sito viola che tra un po' riprenderemo in mano potentemente ragazzi attenzione c'è anche il link per discord iscrivetevi al server disco ragazzuoli perché lì ricevete tutte le notifiche dei video e ogni tanto ci facciamo pure una chiacchierata in vocale perché ogni tanto vi vengo a salutare sul server disco quindi ragazzuoli detto questo non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento di giornata io vi do sempre appuntamento sul canale con nuovi video e nuove live ciao ragazzi ciao